Questa mattina c'è stato un nuovo sopralluogo della soprintendenza sugli scavi archeologici di piazza Andrea Costa. Un sopralluogo, lo diciamo subito, che non fermerà i lavori in atto, consentendo che il 15 settembre prossimo si incominci a ricoprire il tutto, ma che consentirà almeno alla popolazione di capire che cosa è stato scoperto. Verranno realizzati infatti dei pannelli illustrativi che verranno posti sulla recinzione con tutte le informazioni necessarie alla luce di quanto fino ad oggi è stato compreso nell'intricato articolarsi di murature medievali e romane emerse nel corso degli scavi. La scoperta più interessante comunque riguarda il ritrovamento della fogna romana con una duplice canalizzazione, una delle quali è ancora in funzione, che doveva seguire il cardo massimo, i cui basoli sono stati rinvenuti nei pressi non in sito, ma in uno stato di reimpiego. Questa mattina è stato rinvenuto anche l'ingresso di una scala che doveva condurre nella cripta della chiesa di San Daniele, della quale sono stati liberati solo alcuni scalini e non si andrà più oltre. Il sopralluogo è stato compiuto dalla funzionaria della superintendenza Ilaria Venanzoni insieme all'assessore ai lavori pubblici Gianluca Ilari, che abbiamo avuto ai nostri microfoni. Il cardine massimo probabilmente era lì dove l'avevamo indicato, non abbiamo trovato la pavimentazione perché era stata già rimossa precedentemente, perché come potete vedere la statigrafia è tutto materiale riportato, quindi di ritrovamenti importantissimi non ne abbiamo potuti fare, anche gli stessi pavimenti sono stati asportati durante le lavorazioni successive, faremo un altro piccolo sondaggio lì accanto solo per capire se fosse quella veramente il termine della larghezza della strada, niente di più. Dal secondo albero in poi chiudiamo tutto, andiamo avanti con i lavori, quindi poseremo le tubazioni, i pozzetti, andremo avanti con i lavori e al termine di questo piccolo saggio ci vorrà poco tempo, faremo l'ultimo sopralluogo per poi determinare la chiusura totale e continuare con i lavori. cose particolari di nuove rispetto a quello che ci avevamo detto l'altra volta non ce ne sono di così importanti, è stato trovato un capitello, ma anche quello lì è stato buttato durante le lavorazioni, il capitello messo di taglio senza la colonna sotto, quello lì verrà preso e messo a disposizione della città nel luogo che la sovrintendenza riterrà opportuno, non ci sono altri grandi ritrovamenti.